Presidente Confcommercio Ro, Alberto Panigo, grazie di aver accettato questo momento di confronto. In particolare oggi parliamo delle luminarie, dell'attesa, perché per noi Natale è attesa. Attesa vuol dire anche rendere più bella la città e tra i diversi modi ci sono senza altro le luminarie. Lo stato dell'arte a Ro? A Ro hanno già concordato con l'amministrazione del Comune, la nostra delegazione, perciò sono già pronti, saranno dei fascioni, credo verdi, se non vado errato, che illumineranno praticamente la città. Abbiamo anche la Inate che è già pronta con le luci, anche con Redo se non vado errato e altri comuni che seguono. Stiamo allargando praticamente in tutti i comuni di appartenenza che sono in questo cartello qua. Certo, diciamo che oggi un po' tutti ci stiamo conducendo ad un Natale più sobrio, senza togliere il sapore della festa. Anche la scelta di Ro ha scelto un po' di questi festoni, un po' il verde. Vero, ovvio che, visto la situazione energetica che abbiamo oggi, il risparmio è d'obbligo. Potremmo ragionare, anche qualche Comune ci ha proposto, di ridurre magari anche qualche ora, che è fattibile. Noi faremo di tutto per far risparmiare anche questa energia qua che oggi è diventata fondamentale per noi, per i costi che dobbiamo sostenere. Perciò, vediamo un attimo di concordare con le amministrazioni e di trovare la scelta più giusta da fare. Presidente, giusto per rincuorare i nostri commercianti e lo stimolo per il Natale, il Natale è gioia, ma anche voglia di uscire, passare nei negozi. Il suo appello ai cittadini rodensi. Guardi, se lei si immagini la città, una città, un paese, un comune che a Natale non abbia le luci. Lei, faccio un esempio, entra in un paese con le luci, ne esce fuori, ne trova uno senza luci. Veramente è una cosa… Natale è Natale, è una festa importantissima e vanno coinvolti tutti. Perciò non è pensabile di rimanere senza illuminazione, senza luci di Natale, che già solo le luci danno la festività della festa e dell'importanza di questa festa. Perciò spero che tutti i comuni condividano con noi questo percorso. Spero con tutti che tra l'altro i nostri cittadini dei vari comuni facciano la propria spesa a casa nostra, in modo che anche il commercio venga valorizzato e un augurio a tutti anche diciamo di un buon Natale, anche se è un po' in anticipo. Perfetto. Noi ci associamo Presidente, grazie, grazie per quello che fate. Grazie a voi.